Buonasera e ben ritrovati con Amico Fisca, con Massimo Andemo dell'ufficio provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Est, che oggi ci parlerà di un cambiamento, ossia della nuova SCIA che sostituisce la DIA, scusate il gioco di parole, per l'avvio delle attività commerciali o dei lavori in indirizzo. Spiegaci di che cosa si tratta Massimo. Sì, grazie Michela e buonasera ai telespettatori di Telechiara. È un ulteriore passo verso la semplificazione amministrativa. SCIA è l'acronimo che sta per indicare segnalazione certificata di iniziatività. Abbiamo detto che andrà a sostituire completamente l'impianto normativo e pertanto l'istituto giuridico della DIA, che sarebbe stata la dichiarazione di iniziatività. Questo nuovo istituto giuridico è stato previsto dal decreto legge di maggio, il decreto legge 78, che è la cosiddetta manovra d'estate. Abbiamo detto che è un ulteriore passo verso la semplificazione amministrativa perché con questa norma si è voluto eliminare tutta una serie di oneri burocratici a carico del cittadino contribuente. Sostanzialmente può iniziare la sua attività o i lavori edilizi subito dal momento in cui presenta questa nuova segnalazione all'ente locale, il comune. Ecco, allora vediamo proprio quali sono le differenze tra la SCIA e la DIA. Sì, la DIA, la denuncia iniziatività, abbiamo detto, era una dichiarazione che il cittadino faceva all'ente locale al comune per iniziare dei lavori edilizi, supponiamo, però non poteva iniziare subito, doveva aspettare un periodo di tempo che era quantificato in 30 giorni. La SCIA invece è l'assegnalazione certificata di iniziatività, anche questa è una comunicazione che viene fatta al comune, però immediatamente il cittadino può iniziare o la sua attività economica oppure i lavori edilizi. Sarà compito poi dell'ente locale il comune, andare a verificare se sussistono i requisiti dichiarati e eventualmente modificare, correggere o interrompere questa attività o questi lavori che sono iniziati. Ecco, quali adempimenti occorrono per la SCIA? Sì, abbiamo detto che appunto questa segnalazione certificata, certificata vuol dire che è necessario corredare questa comunicazione al comune delle attestazioni dei tecnici abilitati e obbligatoriamente dei progetti, dei lavori edilizi oppure dell'attività che si intende intraprendere. Successivamente il comune farà delle verifiche e se ci saranno delle irregolarità avrà 60 giorni di tempo dal momento in cui ha ricevuto questa segnalazione per interrompere o dare delle prescrizioni o modificare i lavori che sono iniziati. Ecco, parliamo adesso dei limiti che può avere la SCIA. Sì, lì ci sono dei limiti per i quali la SCIA non può essere applicata. Parliamo ad esempio nei lavori edilizi se ci sono dei vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e invece per altre attività, per esempio atti che sono rilasciati da amministrazione preposta alla difesa nazionale, pubblica sicurezza, immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia o all'amministrazione delle finanze. Ecco Massimo, facciamo un esempio di quando serve la SCIA. Sì, abbiamo detto che la SCIA serve per iniziare o lavori edilizi o attività economiche. Nel caso delle attività economiche il Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito, ha preso in considerazione, ha definito alcune attività, attività per esempio di installazione di impianti, di autoriparazione, di pulizia e facchinaggio, attività di intermediazione commerciale di affari, agenti o rappresentanti di commercio, mediatori marittimi e spedizionieri e anche vendita e somministrazione di alimenti e di bevande. Ecco, la SCIA si applica poi anche nel campo dell'edilizia? Sì, la SCIA si applica anche nel campo dell'edilizia, come abbiamo detto, per iniziare i lavori di ristrutturazione, restauro, quello che deve essere fatto negli edifici. Qui però dobbiamo fare alcune precisazioni, in base alla tipologia del lavoro c'è lo strumento, il titolo abilitativo che deve essere rilasciato per iniziare questi lavori. Con la SCIA si possono avviare lavori di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia cosiddetta fedele, vuol dire che non ci devono essere grosse variazioni nell'edificio. variazioni che possono essere magari di volumetria, di aggiungere nuove stanze oppure nuove costruzioni e in questo caso però la SCIA non è sufficiente, è necessario il permesso di costruire. Restano invece soggetti a una semplice comunicazione al comune, lavori di manutenzione straordinaria, pavimentazione, interventi per realizzare gli impianti fotovoltaici e impianti solari. Infine poi non è necessaria neanche una comunicazione al comune invece per lavori di manutenzione ordinaria che vengono fatti negli edifici e per l'eliminazione di barriere architettoniche che non modifichino però sottolineiamo la sagoma e la volumetria dell'edificio. Perfetto Massimo. Noi con la SCIA concludiamo anche Amico Fisco per il 2010 visto che questa è l'ultima puntata. accogliamo l'occasione per augurare buone feste a tutti voi, anche ai nostri telespettatori e naturalmente ci rivediamo nel 2011 circa metà gennaio con Amico Fisco. Allora intanto grazie dell'attenzione e ancora buone feste a tutti. Allora intanto grazie a tutti i nostri telespettatori